...appuntamento con la Premier League, siamo pronti a seguire con voi il match, ma non prima di aver parlato del tema di mercato del giorno, di cui tutti parlano. Alexander andrà al Real, che ne pensi Stefano? Beh, Pier, adesso tutti i giornali, sembra che abbia richiesto il trasferimento e che sia pronto a unirsi ai Los Blancos. Sinceramente capisco il fascino del Real Madrid, è difficile rinunciare a una simile opportunità, eppure credo che sia troppo presto per la sua carriera. Temo che al Real passerebbe fin troppo tempo seduto in panchina, invece di migliorare giocando sul campo. Dai fischi è facile intuire cosa ne pensano alcuni tifosi, non solo molti, va detto, però non vanno ignorati, così come non si possono non vedere quegli striscioni. A prescindere da quello che gli riserverà il futuro, deve concentrarsi sulla partita e rispondere ai fischi con una buona prestazione. Ecco la formazione dell'Arsenal. Cominciano il match con ben cinque difensori e tre attaccanti, al centrocappo poco folto, vedremo come si evolverà la situazione. Probabile che i due laterali... Beyer in! La casetta. Arsenal che prova. La casetta. Sta avanzando. Wiltshire! Pallone che trova il palo, palla ancora buona. Difende il pallone con caparbietà nonostante il pressing. Alexander. Baragna metri verso l'area. Prova a andare. Pallone fuori di poco. Ha riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Sanchez. Hector Beyer in. Occhio a Sanchez. Buono l'1-2. Beyer in. C'è un buon anticipo. Mesut Osil. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Che classe è questo giocatore. Grande classe direi. Cogliate. Occhio al suo movimento. C'è il fischio del direttore di gara. È offside. Mertesac. Contrasto riuscito. Palla che rotola via. Sanchez. Ramsey. Alexis Sanchez. D'arbitro giudica falloso l'intervento e sarà calcio di posizione contro l'Arsenal. La casetta. Intervento sicuro di Cech. Torniamo a parlare di Alexander Stefano. Credi che le voci siano vere? Pensi che un giocatore così giovane possa compiere un passo tanto grande? Non farò intendermi, Pierre. È un vero talento. Ma è un po' troppo impulsivo. Dovrebbe ascoltare suo nonno. Il leggendario Jim Hunter. E non farsi trascinare dall'entusiasmo. Un giorno sarà un vero campione. Ne sono certo. Ma adesso è solo un ragazzo che deve essere tutelato. Alexis Sanchez. Occhio all'azione dell'Arsenal. Palla a Mertesacker. Wiltshire. Ci mette il corpo. Ramsey. Sale la casetta. Continuano nel possesso palla quasi ipnotico nei confronti degli avversari. Ci sono metri per andare. Ayew. Contropiede gestito davvero. Gran palla in mezzo. Attenzione al tiro. La parata del portiere che dice di no. La mette in mezzo con questo pallone. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Cogliate. Occhio cerca l'area di rigore. Hunter. Salta l'uomo. Nessun problema per Cech. O'Biang. Possesso per l'Arsenal. Sanchez. Tocco di ritorno. La casetta. Bravi qui a bloccare tutto. Hunter. Arnautovic. Interrompono bene l'azione. Naccio Monreal. La casetta. L'extra time sarà di due minuti. Arsenal che ha spazio lateralmente. Sale la casetta. Monreal. Ottima la chiusura. Ferma l'azione. La. Seconda frazione di gioco che è iniziata con l'Arsenal in possesso di palla. Vedremo se le due squadre cambieranno atteggiamento dopo l'intervallo. Punta l'area. Arnautovic. Cogliate. La casetta. Ramsey. Wiltshire. Occhio al cross per Ozil. Ottimo intervento. Aubiang. Cresswell. Bene qui il difensore. Ha chiuso la linea di passaggio. Ha riconquistato palla. E c'è il tiro di la casetta. Buona la chiusura. Hector Beyerin. Wiltshire. Arsenal che prova. Interviene proprio all'ultimo e salva. Buona triangolazione. Hunter. Per l'arbitro non è fallo questo? Dopo forse avremo modo di rivedere. Attenzione per il gol di Alex Hunter. Domani sarà di nuovo su tutti i giornali. Ma almeno stavolta ci finirà per qualcosa di buono. Ecco il replay dell'azione che li ha portati al gol. Questa è la conclusione con cui Alex Hunter ha trovato il gol. Ha soppreso il potere con un tiro forte e preciso dalla distanza. Ha calciato con forza, ha trovato precisione. E l'angolo, un gol bellissimo. Bellissimo. Hanno aperto le barcature con questo gol. 1-0. Ramsey. Mert e Zucker. La cassetta. Chiude bene il triangolo. Si avvicina all'area. Apre il gioco. Perde palla. Vedremo se riusciranno a sfruttare questa rimessa. C'è un cambio tra i giocatori dell'Arsenal. Perfetto oggi le passaggi. Ci mette il corpo. Arnautovic. Koyate. Hunter. Premia la corsa sulla fascia. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Mustafi. Hector Bejerin. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti della gara. Novo. Arnautovic. Occhio al suo movimento. Alexander. Sventa qui la minaccia. La cassetta. Palla profonda per Sanchez. Arnautovic. Koyate. Ferma l'azione. Recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Grande copertura qui. Ripartono in campo aperto. Mustafi. Mertesacker. Occhio all'azione dell'Arsenal. Ancora la cassetta. Prova in porta. Pallone che finisce largamente sul fondo. Beh conclusione buona ma solo nelle intenzioni. Palla che non ha preso il giro voluto terminando la sua corsa lontana lontana. Non ha dubbi l'arbitro. C'è la munizione. Sanzione giusta? Questo è il mio punto di vista. Fallo veramente brutto. Alexis Sanchez. C'è il tocco sulla fascia. Ma non granché il cross. La difesa a vita facile. Emirates che non sta davvero... Prova la cassetta. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Wiltshire. Occhio cerca l'area di rigore. Buona la chiusura. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ancora tre minuti da giocare. L'azione sfuma qui. Palla nuovamente agli avversari. E il portiere recupera il pallone. Ci saranno da recuperare due minuti. Cogliate. Palla recuperata. Azione interrotta. Ecco il triplice fischio. È stata una giornata strana per la Premier League. Con l'attenzione concentrata quasi interamente su Alex Hunter. E le voci di un suo passaggio a Real Madrid. Insomma, se i rumori dovessero rivelarsi tali, la prestazione di oggi sarebbe un ottimo modo per salutare i tifosi. Hai ragione, Pierre. Hunter ha segnato e ha aiutato la squadra a portare da casi tre punti. I tifosi sembrano contenti della prestazione. Per capire come si svilupperanno le cose dovremo attendere i prossimi giorni. È una vittoria dunque.